Rieccoci insieme col Bianchi e Rosso TV Sport, vogliamo subito toglierci il piacere di rivedere Sandro Tovaglieri. Il Cobra ieri ha vinto 3 a 1 con la sua Roma contro il Bari di Tangorra, ringrazio per il risultato Cristian Siciliani e il professore Antonucci che mi hanno dato praticamente contemporaneamente e intanto vediamo un fatto veramente incredibile, io ho già visto questo filmato, davvero è finito il mondo, con Gennaro Il Baffone che fa una dedica a Tovaglieri, e non il contrario, Gennaro che fa la dedica a Tovaglieri, vediamo un po'. Sandro Tovaglieri, sempre un'emozione particolare tornare qui a Bari? Ma è come se fosse la mia seconda casa, quindi è un piacere rivedere tantissimi amici, poi mi legano tanti ricordi belli, quindi veramente sono contento. Parlando un po' della partita, poi è andata anche abbastanza bene per i suoi ragazzi? Sì, per noi era una partita importante perché avevamo la possibilità vincendo di accorciare la classifica in vista dello scontro diretto Lazio-Catagno, è stata una bella partita da entrambe le formazioni, quindi il nostro intento è quello di cercare il gioco, di costruire i giocatori, poi è normale che in queste categorie c'è anche il risultato che ha la sua importanza, quindi siamo contenti, abbiamo fatto una trasferta, siamo stati accolti molto bene dalla società, quindi siamo felici, torniamo a Roma soddisfatti. Quali sono gli obiettivi del Sandro Tovaglieri allenatore? Io sto vicino a casa, mi diverto con i ragazzi e l'obiettivo mio è quello di aiutare questi ragazzi a crescerli per poterli portare in primavera, in prima squadra, sarebbe una grande soddisfazione e poi raggiungere per quest'anno intanto le finali che sarebbe un traguardo importante. Hai avuto modo di vedere il Bari di Torrente, che idea ti sei fatto? Sì, lo seguo sempre, adesso si sta un po' riprendendo, la vittoria di ieri a Varese è un peccato per due punti di coppia, però è una squadra che porto sempre nel cuore, la seguo con piacere e gli auguro di tornare al più presto in Serie A perché lo merita la città, perché è un peccato vedere quello stadio così vuoto. Ovviamente saprai delle difficoltà economiche del club, che effetto ti fa vedere soprattutto questa situazione con il disimpegno della famiglia di Tarresi un futuro davvero ancora incerto? Beh, questa cosa mi dispiace perché quando c'ero io le cose andavano benissimo, però bisogna dare anche atto alla famiglia di Tarresi che ha fatto tantissimi sacrifici, sempre soli, senza aiuto di nessuno, sono sicuro che ancora darà un contributo importante e mi auguro che si possa risolvere perché è una piazza troppo importante. Che nostalgia rivedere tu a ieri? Beh, a parte la nostalgia, si vede che è uno che è rimasto legato a Bari e alla città insomma. E vabbè, 080 501 9998 per le vostre telefonate in diretta su Telebari, Radio Bari oppure attraverso il sito www.radiobari.net. C'è un amico in linea? Pronto? No, aspettiamo un attimo. Gigi, non ritieni più affidabile Cipiteri di Borghese nel ruolo di centrale? Ma Enzo, ti dirò, Borghese nel momento in cui veniamo attaccati dalla squadra avversaria con i palloni alti è determinante, anche perché per il resto gli esterni sono poco propensi a marcare, non dimenticare che sia Crescenza che Garofano sono due. È chiaro che l'alternativa potrebbe essere quella in caso di squalifico meno, però bene no, ma al momento i centrali sono tre e sabato la coppia centrale Cipiteri-Borghese mi ha soddisfatto. Stoian, un amico da casa, ricorda Valdes o no? Beh, anche Valdes era il giocatore, era definito il giocatore da mezzotempo, insomma. C'hanno tutte e due la stessa abilità a saltare l'avversario, con la differenza che però che Stoian è più prositivo nell'ultimo passaggio. C'è un amico in linea, pronto? Ciao Venzo, sono Tonio dell'Amici della Sud. Ciao Tonio, ciao. Ho sentito l'intervista oggi a Matirazzi, che ha confermato quello che io ho sempre detto da tempo, che quello che è successo, la rovina che è successa al Bari, economicamente la colpa maggiormente è di Perinetti, perché Matirazzi è l'unica colpa che ha, che ha consentito a firmare certi contratti. Però posso dirti una cosa, Tonio, io trovo ingeneroso dare delle colpe a Perinetti, perché Perinetti avrà anche speso, ma con Perinetti e Bari, scusa un attimo, Perinetti col Bari è arrivato dalla serie B al decimo posto in serie A. Cioè un direttore sportivo cosa può fare di più? Ha fatto, a mio avviso, ha fatto, come dire, un grandissimo risultato sportivo. Bisognava evidentemente controllarne la spesa, ma Perinetti quando ha avuto il portafoglio di esposizione, ne ha fatto quel che ha voluto, a mio avviso bisognava invece evidentemente controllare i movimenti di Perinetti. Per me è colpa di chi non li ha controllati, io posso capire la fiducia, ma non è possibile adesso scaricare le colpe su uno che comunque con quella gestione, per carità, un po' sopra le righe, nel senso comunque costosa, però ha portato il Bari dall'anonimato della serie B, non dall'anonimato della serie B, al decimo posto in serie A. Io non me la sento, francamente, se volete sapere la mia, di colpevolizzare Perinetti, per quanto capisca che la sua gestione, il suo passo è stato probabilmente un passo più lungo della gamba rispetto al passato del Bari, però ci ha portati al decimo posto in serie A, non bisogna dimenticarlo. Gigi? No, guarda, sinceramente la situazione è un po' particolare, però Perinetti con tutto il rispetto ha fatto determinati programmi, i programmi sono stati accettati dalla società in sintonia con il tecnico, ha vinto un 420B, poi il tecnico è andato via, ha avuto l'intuizione di prendere un tecnico che ha divertito, a quel punto non gli puoi dire niente. Per me è stato fatto che Perinetti sceglie prima Conte, che in quel momento non lo voleva nessuno, correggimi se sbaglio, e poi Ventura, che sembrava un allenatore quasi da pensione e invece lo rilancia, per me già quelle due scelte giustificano un applauso a Perinetti, obiettivamente, l'anno si trattava di tirar fuori i soldi, perché Conte costava poco, Ventura costava poco, quindi in Perinetti c'era, sì, a volte l'eccesso, pagare dei giocatori così così a certe cifre, però, e soprattutto l'incapacità di venderli i giocatori poi, però ha avuto delle intuizioni fenomenali, cioè Conte e Ventura, soprattutto Conte, è da Oscar dei direttori sportivi. Enzi, il problema non solo, il Bari in 30 anni, a prescindere dell'abilità e della competenza di regalia, non si è mai creata una figura societaria che avesse il compito di tutelare determinate situazioni, è chiaro che il momento in cui tu non segui perché ti fidi ciecamente alla fine può capitare, però pensare e mettere in dubbio la competenza e la serietà e la professionalità di Perinetti mi sembra un'altra domanda. Abbiamo un'ultima telefonata? Abbiamo un'ultima telefonata?